Noi abbiamo fatto anche un grande lavoro sulle tradizioni popolari, abbiamo unito alcuni momenti delle tradizioni popolari della Terra Veneta attraverso i racconti dello straordinario Sergio Bissoli che è qui tra noi e ci riprende e l'Hammas e le tre streghe sono scritte da Sergio Bissoli per la profondo rosso di Dario Argento, quindi tra l'altro avete uno scrittore da queste parti che scrive per il maestro Dario Argento e questi due racconti splendidi e meravigliosi sono stati scritti da Sergio che ha scritto tanti altri racconti splendidi ed è una vera biblioteca antropologica vivente.